Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing Oggi vi parlerò del Mobi Magic Charger Come potete leggere è un battery più charger station for Apple Magic Mouse Quindi questo video ragazzi è dedicato a tutte le persone che utilizzano Mac e che utilizzano l'Apple Magic Mouse Che sarebbe questo qui ragazzi Questo qui è il mouse wireless che utilizzo anch'io come vedete Non è niente male però l'unico difetto di questo mouse E' che le batterie che si mettono all'interno si inseriscono due batterie normali Durano veramente pochissimo Io che utilizzo il mouse veramente per editare video Lo utilizzo veramente tantissimo Devo cambiare diciamo un treno di batterie una o due volte al mese Quindi mi sono veramente stancato di continuamente comprare batterie Quindi sono andato sul sito dell'Apple Ho visto che c'era questo prodotto qui della Mobi Spero di averlo pronunciato bene ragazzi Basterà inserire queste batterie qui all'interno qua E poi mettere per ricaricare il mouse Solamente il mouse sopra questa station Non so se mi sono fatto capire ragazzi E poi si dovrebbe ricaricare via wireless E' veramente una cosa fantastica Perché non ci sono fili Non c'è assolutamente nulla E dovrebbe durare abbastanza Perché ogni volta che non si utilizza il mouse Si può appoggiare sopra questa station appunto E il mouse si ricarica Quindi adesso io lo apro insieme a voi ragazzi Così lo guardiamo Allora vabbè qui c'è sempre queste carte qui Che non si tolgono Via Perfetto Una andata via E adesso cerchiamo di aprirlo Ok abbiamo spaccato tutta la confezione Ottimo Allora apriamo qui Ah c'era una confezione nella confezione Qua dentro cosa c'è ancora? Non c'è più nulla No allora questo lo mettiamo via Qui abbiamo le nostre tutte belle indicazioni ragazzi Che questa marca qui fa sia il The Magic Charger Quindi appunto la station wireless Che anche per la tastiera Quindi se qualcuno utilizza anche la tastiera della Apple Si può comprare anche The Magic Bar Quindi si ricarica anche quella Io per la tastiera ne utilizzo un'altra E qui vi faccio vedere un po' tutto quanto Qui possiamo fare un'accoppiata tastiera e mouse inverosimile Quindi per il manuale qua penso che sia tutto Andiamo subito a vedere il prodotto Allora Qui abbiamo già spaccato tutto Perfetto Queste qui sono le batterie Non so se vedete perché i miei unboxing sono molto casarecci ragazzi Queste sono le batterie E questa qui dovrebbe essere la station Eccola qui Cioè non pesa nulla Guardate che sottile che è È veramente una cosa inverosimile È sottilissima E qui invece abbiamo il cavo Un bel cavo Così ragazzi Cos'è? Mini, micro, USB Qua si apre tutto Si collega al Mac E questo qui dovrebbe funzionare all'istante Questo si collega così Perfetto Poi qui ci dovrebbe essere una luce Quando non si sta utilizzando la luce è rossa Quando invece è in carica E ragazzi per quando è in carica intendo proprio quando si mette il mouse sopra la stazione La luce dovrebbe diventare verde Vi faccio vedere anche come si monta Qua togliamo via l'involucro e le batterie Una e due E si dovrebbe inserire questa qui Finalmente ragazzi sono riuscito a inserire il pacco batterie della Mobi dentro all'Apple Magic Mouse Vi dico anche subito come si fa Bisogna prima metterlo davanti qua in punta E poi schiacciarlo indietro E bisogna fare abbastanza pressione Io pensavo di spaccare qualcosa Però alla fine come vedete è proprio perfetto perfetto Qui non c'è nessun gradino niente È veramente bello liscio qui Sono veramente contento Adesso lo andrò subito a provare Poi lo caricherò mettendolo sopra la stazione Non si sprecheranno più batterie Il pezzo originale questo qui dell'Apple ragazzi non serve più Comunque teniamolo sempre di scorta che non si sa mai E niente una carica intera c'è scritto che dovrebbe durare una settimana Se non si mette mai più il Magic Mouse sopra appunto la ricarica Quindi se lo carichiamo al massimo e poi non lo mettiamo più su questa station Dovrebbe durare una settimana c'è scritto Però ragazzi io ogni volta che non si utilizza più eccetera Lo metterò sempre qui a ricaricare Così le batterie saranno infinite possiamo dire Sono veramente contentissimo di questo acquisto Scrivetemi nei commenti se anche voi per i possessori in pratica di Apple Se anche voi avete comprato questa ricarica qui Come vi trovate? Se volete un consiglio magari potete scrivermelo nei commenti E io magari tra un paio d'ore oppure quando uscirà il video Avrò già un po' le mie impressioni su questo prodotto Quindi potrò dire un po' cosa ne penso Quindi lasciate un bel like Commentate, iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook Condividete il video ragazzi Qua da Bistard per oggi è tutto E noi ci vediamo al prossimo video Ciao! Grazie per la visione!